I dati diffusi dalla ragioneria generale dello Stato sul costo dei dipendenti pubblici stanno indignando il mondo della scuola. Docenti e personale ATA infatti risultano il fanalino di coda di tutto il pubblico impiego. In effetti che gli stipendi della scuola siano i più bassi di tutti lo si sapeva già da tempo, ma quest'ultimo rapporto della ragioneria dice anche che negli ultimi anni le retribuzioni medie di docenti e ATA si sono addirittura ridotte. Rispetto al 2017 la busta paga nella scuola è diminuita di 800 euro. Il calo si spiega con il fatto che con i pensionamenti escono dalla scuola dipendenti che sono arrivati al massimo dello stipendio ed entrano i più giovani con retribuzioni assai più modeste. È pur vero che nel 2018 le buste paga sono aumentate per effetto del nuovo contratto, ma è anche vero che l'incremento è stato davvero molto contenuto. A conti fatti si tratta di un 1,7% in più, come si legge nella relazione della ragioneria. La differenza rispetto agli altri comparti è davvero notevole. Le retribuzioni medie nello Stato sono di 34.500 euro, mentre nella scuola non si arriva neppure a 29.000. Si parla come sempre di cifre lorde perché poi in tasca ai docenti e ATA arriva decisamente molto di meno. Non a caso i sindacati stanno già avviando le procedure per aprire l'avvertenza contrattuale, anche se per entrare nel vivo bisognerà aspettare che il governo stanzi le risorse necessarie. Risorse che per ora sono davvero molto ridotte e sono appena sufficienti per riconoscere l'indenità di vacanza contrattuale. Intanto, con l'intenzione di fare pressing sul governo, i sindacati hanno anche dichiarato lo Stato di mobilitazione e non escludono la proclamazione di uno sciopero nella prima decade di maggio. Su questo tema torneremo ancora perché è un tema molto sentito ovviamente sia dagli insegnanti che dal personale ATA, da tutto il mondo della scuola. Quindi continuate a seguirci, commentate, mandateci le vostre opinioni sia qui sul canale YouTube ma anche nella nostra pagina Facebook, e quindi continuate a seguirci, commentate,